Maria Rocco del Raio Vallejano, una squadra che partecipa da nove stagioni al campionato Wisp femminile. Che cosa vi ha spinto nove anni fa a iniziare questa avventura, considerando che il calcio è sempre stato visto come uno sport soprattutto maschile? Allora, noi abbiamo creato questa squadra perché avevamo tutte o quasi tutte già giocato in agonistica ed eravamo un po' stufe dell'ambiente agonistico e quindi volevamo qualcosa di più tranquillo per stare insieme tra amiche proprio. E quindi abbiamo piano piano cominciato a costruire questa squadra con molta fatica perché appunto... Ovviamente tra i vari impegni di lavoro, poi comunque non è facile. E poi esatto, per le ragazze è sempre un po' più difficile anche magari trovare il tempo, trovare altre ragazze che... Che siano disponibili per venire a giocare. Anche perché è un impegno di un campionato, quindi è anche lungo, dura tutta la stagione. Durasi tutta la stagione, poi esatto con altri vari impegni di lavoro, poi tante durante questi nove anni sono diventate mamme, quindi... Come è il tuo caso, giusto? E quindi c'è sempre meno tempo, ma riusciamo più o meno a organizzarci con tutti i vari impegni. Ormai... No, essendo nove anni... Ce l'abbiamo fatta, ovviamente. Ce l'abbiamo fatta abbastanza. Una stagione che non è andata benissimo questa, però avete raggiunto comunque un ottimo risultato. Avete vinto la Coppa Disciplina. Sì, l'abbiamo vinta già tanti anni perché appunto a noi interessa principalmente divertirci, quindi i falli e le lamentele non sono proprio la nostra specialità. No, decisamente. Invece è risultato sportivo? No, invece quest'anno, dopo tanti anni che eravamo riuscite a salvarci, quest'anno siamo retrocesse, ma l'anno prossimo giocheremo in A2, che sarà comunque divertente. Ma comunque, visto che l'intento della squadra è di divertirsi, l'anno prossimo in A2, quali possono essere in chiusura gli obiettivi della prossima stagione? Eh, magari potrebbe essere ritornare in A1, se ce la facciamo, e come sempre vincere la Coppa Disciplina perché l'abbiamo già vinta tanti anni, e quindi farsi ammonire il meno possibile e divertirsi il più possibile, questo di solito è... Vabbè, con l'augurio di X Liguria che questo accada, che riuscite a vincere comunque l'ennesima Coppa Disciplina, grazie mille Maria. Grazie. Grazie.